Ben trovati amici investitori, un nuovo appuntamento con Vivere di Dividendi. Chi vi accompagna in questo viaggio nel diventare ogni giorno di più investitori consapevoli è domenico e in questo video vogliamo continuare la presentazione delle aziende che stiamo scoprendo pian piano tutti insieme. Abbiamo già infatti esaminato sei aziende, ve le lascio qui sopra nella playlist dove appunto vediamo gli amministratori delegati che presentano le loro rispettive aziende. Andiamo con quest'altra miniserie a scoprirne altre quattro, ma non solo. Lasciate qui sotto tutti i commenti relativi a queste aziende ed altre aziende eventualmente perché comunque contemporaneamente stiamo intervistando dal vivo gli amministratori delegati quindi tutti i vostri commenti che verranno lasciati qui sotto avremo l'opportunità di parlare direttamente con loro e quindi rivolgere direttamente a loro le vostre domande. Aspetto i vostri commenti qua sotto, ovviamente cliccate il mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi le altre presentazioni aziendali ma anche le interviste agli amministratori delegati. Io vi lascio con la presentazione di questa nuova azienda e noi ci vediamo nel prossimo video. Buon dividendo a tutti! La nostra azienda è Industrial, quindi abbiamo il nostro Maurizio Bertocco, amministratori delegati e presidente di ILPRA che è un industrial ma è un industrial molto tecnologica quindi ecco perché l'abbiamo selezionata nel campione delle società industrial e riteniamo che sia un'eccellenza nella rappresentatività del Lime sul mondo industriale. Un mondo industriale che si è rilevato per noi che seguiamo Lime dalle sue origini, che insomma abbiamo sempre creduto su questo mercato come ben Maurizio sa e tutti gli altri sanno, insomma è un settore, quello industriale che si è affacciato sul mercato Lime Italia un pochino più tardi rispetto alle altre, alle tecnologiche, al mondo delle green economy. Però direi assolutamente oggi con una buona rappresentatività, l'abbiamo visto nel campione delle società appunto industriali e oggi qui abbiamo una rappresentazione del settore di eccellenza. ILPRA infatti è attiva nella produzione e vendita di materiali per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. È stata fondata nel 1955, quindi un'azienda storica ed è una dei principali player nel settore del packaging grazie a un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche all'avanguardia nel settore del food, quindi food e technology io direi. Nel 2020 il gruppo intende continuare il proprio percorso di crescita consolidando anche le acquisizioni che sono state effettuate nel 2019, ben quattro acquisizioni più un'altra recentemente. Quindi direi che prosegue questo percorso annunciato in quotazione a consolidamento della fiducia insomma nel management che sta rispettando assolutamente quanto assegnato, quanto confermato agli investitori in fase di quotazione. Quindi sta valutando ulteriori operazioni di M&A per ampliare ancora la catena del valore e dei servizi tecnici al settore industriale di riferimento. La società si è quotata il 15 febbraio del 2019, quindi da poco ha compiuto un anno, ha raccolto nel Pio 5,3 milioni di euro con un prezzo di quotazione di 2,1 euro per azione. Il 2019 è stato un anno con una crescita importante, quindi il fatturato ha segnato 32 milioni di euro con un più 12,8% rispetto al 2018 e un'evità di 4,5 milioni di euro, quindi in termini di marginalità relativa a un dato superiore alla media dei campioni industrial di Anim. La capitalizzazione complessiva è di 24,3 milioni di euro, il prezzo attuale 2,0,2 e i controvallori medi giornalieri sono di 7.033 al giorno. Noi copriamo il titolo con la nostra divisione di analisti finanziari, quindi con la divisione Airtop Research e i nostri analisti hanno evidenziato e valutato l'azienda con un target price di 3,10, quindi con un potenziale upside di più 36, di 53% del titolo rispetto al prezzo corrente. Quindi io lascio la parola a Maurizio Bertocco, amministratore e delegato e presidente di Infra. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Maurizio Bertocco, amministratore e presidente di Infra.SPA. Infra.SPA è una realtà industriale che opera nel settore del packaging, del confezionamento, confezionamento tecnologico in vaschetta, in contenitore di materiale plastico, vetro, ceramica, carta, ma principalmente in atmosfera protettiva. Prima di spiegarvi bene che cosa facciamo, quali sono le vostre attenzioni, vi facciamo vedere un breve filmato. Allora, un filmato, abbiamo rinunciato al solito filmato istituzionale, abbiamo fatto un filmatino Covid, molto semplice, che però fa capire qual è stata la realtà in questi giorni, tenendo presente che noi non abbiamo potuto fermarci, facciamo parte della filiera alimentare, quindi abbiamo sempre lavorato, chiaramente con delle difficoltà, chiaramente non è stato facile lavorare, anche perché per noi lo svago working è quasi impossibile, o meglio, lo abbiamo potuto fare con il personale dell'ufficio, il personale commerciale, ma sicuramente no con il discorso di ultimo. Se la regia fa partire filmato? Il Pressepa è un'azienda storica che opera nel settore del packaging alimentare, nata nel 1955 e si è sviluppata dagli anni 80 in questo settore, essendo tra i precursori di questo mercato. Produciamo macchine per il confezionamento in atmosfera modificata, è per noi fondamentale l'apporto di tecnologia. L'atmosfera modificata consente di aumentare la conservazione del prodotto e di trasformare un prodotto fresco in un prodotto a media conservazione. Noi siamo professionisti del confezionamento, prevalentemente in vaschetta per uso alimentare. Il mercato del packaging è un mercato al mondo molto apprezzato, l'Italia produce 25% del packaging mondiale ed è considerato un prodotto d'eccellenza. Noi esportiamo in tutti i paesi, abbiamo una percentuale di esportazione di circa 70%, siamo molto ben introdotti sul mercato nazionale, creando chiaramente un brand di riferimento e riteniamo che sia opportuno seguire in modo adeguato le aziende nazionali perché sono quelle che poi ci fanno crescere. Diventa molto più facile per noi affrontare le problematiche con aziende nazionali e poi tentare di esportare le esperienze che ci siamo fatti. Il nostro è un mercato di nicchia, ma un mercato altamente tecnologico, un mercato che sviluppa tecnologia. Il momento attuale per noi, da quando si è scoppiato il caso Covid, non ha voluto dire fermarci. Noi facciamo parte della filiera del settore alimentare, quindi siamo stati autorizzati a rimanere aperti e quindi abbiamo sempre prodotto, chiaramente in condizioni non ottimali. La prima scelta che abbiamo fatto era quella di ridurre il personale perché si voleva ridurre la possibilità di contatto. Abbiamo fatto in modo che alcune persone lavorassero in smart working, abbiamo dato ferie, abbiamo fatto ricorso anche alla cassa integrazione, ma chiaramente per un discorso anche di equità. C'era chi non aveva le ferie e in quel momento per scelta non voleva lavorare. Nelle settimane più calde abbiamo avuto un 60-70% di presenza in produzione e un 40-50% nel commerciale e negli uffici. Oggi la produzione è al completo, gli uffici quasi. Abbiamo provveduto all'interno dell'azienda a fare tutte quelle operazioni, schermi plexiglia, disinfettante, distanze, cambiamento degli orari, in modo da limitare il più possibile dei contagio. È chiaro che bisogna essere però molto attenti e continuare con tutte queste procedure di sicurezza che apparentemente sembrano banali, ma sicuramente sono indispensabili. Bene. Allora, vi do adesso qualche ragguaglio su quello che è il nostro piccolo gruppo. Allora, tenete presente che come abbiamo detto siamo un'azienda storica che appa sul mercato, siamo stati tra i prepulsori, tra i inventori delle atmosfere protettive, abbiamo venduto circa 17.000 macchine in 129 paesi. Quindi sostanzialmente siamo molto vocati per l'esportazione. Come si accennava nel filmato, l'Italia sostanzialmente produce circa il 25% del packaging mondiale e poi si può dire che il packaging sia veramente made in Italy. Il packaging italiano è molto apprezzato in tutto il mondo. Allora, quest'anno abbiamo fatto, abbiamo visto qualche numero, un fatturato di 32 milioni, un valore della produzione di 34, un EBITDA di 4 milioni e mezzo, pari al 13,10%. Sostanzialmente il nostro gruppo è composto da ILPRA SPA, che è l'azienda che produce macchine per il packaging, l'azienda strema che produce cotton fioc, macchine per la produzione di cotton fioc. Anche questa azienda decisamente innovativa, tenete presente che oggi è l'unico produttore europeo di macchine con bastoncini in cartone. Tenete presente che le macchine per il cotton fioc sono macchine con un contenuto tecnologico elevatissimo, sono macchine che producono da 2 a 3 mila cotton fioc al minuto. E il fatto di produrre quei bastoncini in cartone recependo noi italiani, chiaramente poi tutta la comunità, il discorso dell'individuo della plastica, sia sicuramente molto favorito. Successivamente si vede l'azienda vera, di pacca, che è stata una delle acquisizioni con i fondi raccolti dalla quotazione. L'azienda vera di pacca, che opera sempre nel settore del confezionamento, produce termoformatrici, quindi sempre confezionamento in vaschetta, sempre confezionamento in atmosfera protettiva, ma producendo anche il contenitore. Seguo un'altra acquisizione post quotazione, la Eltec. Eltec è un produttore di fine linea, quindi abbiamo pensato di integrare alle nostre macchine da produzione tutto quello che è il fine linea, quindi il discorso di scatolamento, la palettizzazione, allo scopo di vendere una linea completa, vendere un sistema. IPT, altra acquisizione, si trattava di un nostro distributore che abbiamo preferito portare al nostro interno, tra l'altro oltre al nostro prodotto distribuisce anche alcuni altri prodotti di aziende complementari alla nostra. Abbiamo aperto una filiale, come è promesso i nostri investitori, in Russia, mercato per noi molto importante, mercato in evoluzione, e perché è il mercato che riteniamo che per il prossimo futuro si possa dare delle grandi sollicitazioni. Al di sotto abbiamo Ipro Hong Kong, Hong Kong ha un mercato adesso un pochettino travagliato con tutti i problemi che ci sono, è chiaramente però la testa di ponte per il mercato cinese, mercato ancora per noi un po' acervo, ma sicuramente nel futuro diventerà un mercato interessante. Molto più interessante in questo momento Ipro Middle East, ma proprio in questo momento non tantissimo perché il Covid là si fa sentire e è impossibile praticamente spostarsi nelle varie nazioni e gli spostamenti sono molto più complessi che da noi, però sicuramente un mercato molto molto interessante che ci ha dato ottimi risultati sia nel 2018 che nel 2019 e riteniamo che li possa dare anche nel 2020. e poi abbiamo già accennato di Deripac, Deripac ha una filiale in India, mercato per noi molto importante, tenete presente che è il mercato indiano, capite anche voi quali sono le dimensioni del mercato indiano, e la retratezza nel metodo di riconservazione del prodotto. Oggi è in atto una spinta governativa a confezionare il più possibile, noi siamo fra le poche aziende presenti con una filiale, effettivamente stiamo raccogliendo molti ordini, oggi anche loro hanno un problema Covid che sta rallentando un pochettino quelle che sono le condizioni di mercato, nonostante tutto in questo periodo Covid abbiamo raccolto ordini molto importanti proprio per questa spinta governativa. Tenete presente che in un paese dove la catena del freddo funziona poco e male, l'avere di un prodotto che si conserva in modo naturale per effetto chiaramente all'amostere modificate o comunque prodotti pastorizzabili o sterilizzabili in confezioni sono chiaramente per loro una soluzione molto importante, una soluzione molto valida. Pensiamo che per i prossimi anni il trend sarà in netta crescita in tutti questi paesi, partendo chiaramente dalla Cina, ma tutti i paesi che sono confinati e che hanno più o meno la stessa caratteristica. Vediamo un attimino per farvi capire meglio quali sono i nostri tipi di confezionamento. Sostanzialmente, se vedete, noi abbiamo una gamba di macchine che sostanzialmente si riassume in quattro modelli, in quattro linee di macchine. Termosaldatrici, quindi sono macchine che confezionano il prodotto in una vaschetta, in un bicchiere, in un contenitore di qualsiasi tipo. La maggior parte di queste macchine, stavo dicendo, sono macchine in atmosfera protettiva. Poi abbiamo riempitrici termosaldatrici, queste per intenderci sono le macchine che producono lo yogurt, che confezionano lo yogurt, le salse, i sughi pronti, i vari dessert. Le termoformatrici, stesso principio di confezionamento, ma con la produzione dei contenitori. E infine linea, quelli che vi dicevo con Elpec, avete presente che macchine che producono 10, 15, 20 mila contenitori ora, è impensabile prendere i contenitori e confezionarlo manualmente. Ci vuole tutta una linea di confezionamento. Vediamo invece le tipologie di confezionamento. Le nostre macchine possono confezionare in solo saldatura, quindi sigillare un contenitore. Chiaramente inviolabile, chiaramente trasportabile più facilmente, con tutti i vantaggi di un prodotto confezionato. In atmosfera protettiva, quindi eliminando all'interno del contenitore l'ossigeno, tutto quello che innestra i fattori di ossidazione, fattori proprio di prolifazione batterica, sono normalmente legati all'ossigeno. L'ossigeno, il 21% dell'aria, viene estratta l'aria all'interno del contenitore e immesso un gas protettivo che normalmente è azoto. Tenete conto che l'azoto è il 78% nell'aria, quindi è quello che normalmente respiriamo. Chiaramente così facendo si porta l'ossigeno residuo inferiore all'1%, in alcuni casi si arriva al 0,1%, andando a inibire tutte quelle che sono le colonizzazioni batteriche legate chiaramente all'ossigeno. Chiaro che questo consente di avere prodotti freschi che rimangono tali, pensate a un prosciutto crudo. Il prosciutto crudo oggi in vaschetta dura un mese, 40 giorni e vi garantisco che dopo che è il quarantesimo giorno ha le stesse caratteristiche organolettiche e batteriologiche di quando è stato evoluzionato. E poi lo skin, lo skin che sta interversando nel settore della carne, che è una pellicola che si stende su un contenitore, generando anche qua un concetto, come quello che ho imponato prima, di sottovuoto. È chiaro che la pelle aderisce e quindi non ci può essere contatto con l'aria, non ci può essere contatto con l'ossigeno. E anche in questo caso si migliora quello che è la conservazione. Teniamo conto che in questo periodo Covid noi l'abbiamo sofferto un po' più degli altri. Perché? Perché le aziende industriali innanzitutto basta vedere un telegiornale quando si parla di un PIL che può scendere dall'8-12% chiaramente le aziende industriali sono quelli che ne risentono di più. Noi per nostra fortuna operiamo nella filiera alimentare e quindi l'alimentare sicuramente ne risente molto meno e non solo. L'alimentare oggi è molto più attento a quello che è il confezionamento. Tant'è vero che noi oggi, all'effetto del COI, possiamo dire di aver lavorato male, di aver lavorato in una situazione di disagio, ma comunque di aver sempre lavorato, anzi di aver avuto delle opportunità. Perché molti, tra l'altro, piccolo inciso, abbiamo con il discorso estrema che produce il cotonfiocca, il cotonfiocca sono la stessa cosa che viene utilizzata per i tamponi. Il tampone è ambientato che il cotonfiocca è cotonato da una parte sola e con uno spettino che riprendeva nel tempo e quindi abbiamo avuto anche diversi ordini in questa direzione. Quindi oggi direi che sicuramente il Covid ci ha creato dei grossi problemi, ma sono convinto che per il futuro rappresenterà una grande opportunità. Grande opportunità dovuta al fatto che oggi la gente cerca sicurezza. Un prodotto confezionato è sicuramente molto più sicuro, un prodotto confezionato ha una durata decisamente più lunga, quindi è più comodo, lo posso conservare in frigorifero, non sono costretto ad andare a fare la spesa tutti i giorni e chiaramente la gente lo sta scoprendo. Oggi chiaramente molto utilizzato, ma sono convinto che nei prossimi tempi sarà ancora più utilizzato. Grazie. 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 Grazie.